ciao ragazzi ciao a tutti ben ritrovati qui sul mio canale oggi vi porto l'ultimo capitolo di zombie evil kill dead horror quindi sì l'ho finito potete crederci l'ho finito solamente qui potete trovare quindi il gameplay completo di questo fantastico gioco nel livello successivo poi non ho fatto altro che uccidere uccidere ancora sempre gli stessi energumeni che erano diciamo praticamente fermi ma la cosa più bella la cosa più bella arriverà adesso come potete vedere tutte queste porte sono incastrate nei muri ed escono solamente le maniglie cioè e ovviamente non poteva mancare un altro livello con una caverna assolutamente vuota qui due pezzi di caverna incastrati benissimo devo dire e continua così anche nei livelli successivi fin quando di botto non diventa sonic e in pratica ti ritrovi nel livello pieno d'acqua fino a che non capisci che in realtà non stai nuotando stai volando e puoi superare tutti i nemici tranquillamente dopodiché arrivato a questo livello mi è venuta l'illuminazione e ho pensato perché eliminare ogni nemico quando posso dribblarlo tranquillamente e quindi in quel punto il gioco ha assunto un aspetto quasi tragicomico come se non l'avesse già quindi il gioco dopo un po' smette di essere un horror che riguarda un incubo e diventa donkey kong dovremo saltare da una piattaforma all'altra e quindi dopo un livello schifoso in cui manca la scala totalmente a caso e un altro livello schifoso fatto male dove tutta la stanza è avvelenata allo sviluppatore è venuta una botta di originalità prendendo la stessa stanza di prima ma nascondendo la botola e siccome lo sviluppatore è sicuramente una persona molto molto originale ha pensato bene di rimettere la stessa stanza ispirata a donkey kong di prima quindi non starò a tediarvi ulteriormente facendovela vedere ma vi voglio mostrare direttamente l'ultimo livello dove è possibile buttarsi fuori dalla mappa senza problemi questo ultimo livello voglio godermelo insieme a voi voglio commentarlo insieme a voi perché è veramente qualcosa di inaspettato qui totalmente a caso si recupera un fucile da cecchino e non si sa perché adesso i mostri strisciano a terra mentre lì c'è uno un ergumeno che ci aspetta però noi tranquilli possiamo girare perché questo qui è un vero horror cioè un prato con il cielo azzurro effettivamente è il mio concetto di paura quando quando gioco un horror perché diciamo ispirarlo o comunque basarsi su qualcosa su un location oscura al buio magari quando che bello si può piazzare un prato verde tranquillo con gli alberi e piazzare qualche mostro così a caso perché è quello che fa che fa veramente paura al giorno d'oggi ma ora che lo guardo bene è lui o non è lui ok ok torniamo seri per favore e mi scuso con gli appassionati di resident evil come me per aver paragonato questo scempio al nemesis ovviamente il modello è più che copiato dal nemesis probabilmente cambia solamente per il fatto che porta i bermuda ma giustamente ci troviamo in un prato soleggiato qui c'è un altro zombie fatto bene che mi ha permesso di avvicinarmi tranquillamente alle sue spalle senza problemi come giusto che sia però poi bisogna citare le opere da cui si è preso spunto e quindi il gioco diventa la spada nella roccia simulator ma poi c'è veramente c'è trovatemi un altro canale che ha trattato zombie evil kill che è riuscito a finirlo portando a termine tutti gli obiettivi che diciamo dall'uscire da un incubo si è trasformato in un incubo il gioco stesso vi sfido a trovare un canale che abbia portato un gioco della stessa qualità vai ma devo dire ragazzi che lo sviluppatore ci ha pensato ci ha pensato a noi giocatori e infatti alla fine ha inserito qualcosa che ci cattura perché esprime proprio il nostro pensiero eccolo qua lo stiracchiamento quindi ci rappresenta proprio cioè il sonno che viene a tutti noi giocando questo gioco lui l'ha messo nel l'ha trasmesso al mostro e quindi è anche giusto lasciare una valutazione ottima per così dire perché già troppo l'unica stella e poi basta disinstalliamolo perché si vaffanculo